Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi non sono usciti molti video, ieri dovevano uscire tre video però c'era il temporale a Campoleone e non prendeva bene Perciò non sono usciti, c'era scritto problemi di connessione, non si è caricato il video su youtube eccetera eccetera Allora, che vi dirò? Dovano uscire tre video, uno si chiamava, questo qui fare un video generale durerà tipo 5 minuti Perché non posso farli durare 30 minuti in un secolo, che sennò ci metterà due anni per caricasse Allora, di che cosa parli? Allora, doveva uscire un video, il primo video si chiamava, salutiamo i nostri amici Allora, io saluto Giulio, che forse farà una challenge con me e rischia il gusto O ahimai, ahimai, Prisco, non dico mai cognomi perché non vogliono E con Prisco farò la challenge, la crossbar challenge E è chiara che più o meno è la mia tecnica E poi tutti i miei amici del gruppo Guardate questo video, lasciate like Allora, che faremo? Allora, il secondo video parla... Sono diventato tutto scemo Era un vlog Allora, io ho aperto una serie con voi, si chiama Messaggiami e ti rispondo Messaggiami e ti rispondo E questa serie, in pratica, loro mi messaggiano Mi fanno delle domande Sul gruppo Giulio, Chiara, Prisco, Nicolo, tutti Mi mandano dei messaggi Degli inovinelli e io rispondo E l'altro si chiamava Non mi ricordo L'altro si chiamava Non mi ricordo Perché non mi ricordo Perché io sono Scemo Perché non mi ricordo Non mi ricordo Scusate Metto un attimo un passo al video E niente ragazzi Ho controllato Con il temporale Si sono eliminati tutti e tre I video E va bene Allora, che faremo? Io ogni fine del video Ve l'avevo già detto Vi Porrò Un indovinello E voi dovete rispondere I primi due I primi tre Che risponderanno bene A questa domanda Verranno salutati in un video La domanda è Allora C'è un Indovinello è C'è C'è un aereo Che casca dal confine L'Italia e la Francia E E muoiono Cinque sopravvissuti Quanta gente sopravvive? Scrivetemelo sotto nei commenti Lasciate I mostri E mi raccomando Seguitemi su facebook Lasciate un bel Punicino in su Lasciate like Già detto E iscrivetevi Ciao